Buongiorno, sono Mattia Motta, professore della scuola di luces, arrivo dall'Italia, dalla zona del Plemont, lavoro con molti ganaderi per il concorso, sia in Italia che in Spagna, sono molto contento di partecipare a questa esperienza con voi e sono molto felice di essere qui, di lavorare con voi e di sperare di insegnare un mestiere per voi, grazie. Buongiorno, questo è il secondo anno mio di professore, lo che non ho noto di differenza con rispetto al anno passato è che stavamo ancora con i protocolli del Covid-19, c'erano molti meno studenti, per il tema di guardare le distanze e gli afori in siti, la maggior differenza che abbiamo notato è che, soprattutto dal primo giorno, i ragazzi, con rispetto a questo anno e al passato, hanno fatto piña molto prima, sempre la relazione tra loro ha cominciato più rapidamente, l'anno passato, fino al secondo giorno, già per la tarda quasi, le costa un pochino più entrare, e questo anno abbiamo visto che dal primo giorno sono tutti un pochino più participativi entre tutti, e sempre è logico, sempre è un pochino più timido, un pochino più riservato, che le costa un pochino più, però al final della settimana, io credo che tutti hanno avuto una buona settimana di convivencia, e lo hanno fatto abbastanza bene. Tu stai come alunno, vero, Miguel? Hace abbastanza, io ero in tre edizioni, credo che la prima è stata la tercera, le faccio le tre seguite, fino alla quinta, e le differenze da un pochino da un pochino e da un pochino, sono abbastanza, soprattutto nel primo anno che partirei, per me non avevo la relazione con il mondo dei concursi, non avevo la ganaderia in casa, con la mia famiglia, ma non avevo la relazione con il mondo dei concursi, e del primo anno al ultimo non ti differenziano le scuole, che il primo anno tutto è apprendere, tutto sono cose nuove, per il secondo anno già teni un pochino giù la routine, e la differenza di essere di alunno, essere di professore, sì che è molto grande, vedere le cose di altra forma. Vieni cinque anni come alunno, empece in la prima scuola che si è fatto, hace 18 anni, avevo 11 anni, avevo 11 anni quando empece, e avevo 5 primi anni, poi pari di venire e oggi, questo anno, mi hanno chiamato a vedere se potrei venire di professore, e la verità è una esperienza che mi piace, potrei insegnare lo che hai potuto apprendere. La RDP del Lado sì è la che mi piace la più, è la più complicata, perché gente che non ha mai contato con una vaca, è molto complicato poter coger soltura con la macchina o poter gestionare, quindi loro tentano fare lo meglio che possono, e allora sì che bisogna stare più con loro, te preguntano più, la classe del Lado è la più che mi piace, ma la più complicata di insegnare. Beh, come tu mi dici, Manu, io vorrei destacare a una persona che per me ha stato come un manager, è a dire, io la prima scuola che ho venito qui, ha fatto 14-15 anni che ho venito a impartire come monitor. La prima chiamata di telefono che ho avuto per essere monitor di questa scuola ha stato di mio grande amico, Gabriel Blanco, che io voglio mentionare, perché sempre ha brindato molto potere a tutti i giovani per impartire tutte queste classi e questi corsi di preparatori e manejatori, realmente necessita un gran homenaggio, una gran menzione, Gabriel Blanco. Come ho detto, anche voglio dare una menzione, ricordarmi dei miei colleghi che ho avuto in alcuni anni, come è Javi Alvarez e Giaoma Sarrabassa, che, per motivi personali che non potevano stare in questa edizione, realmente io voglio dare un homenaggio e, da qui, mostrare un gran saluto per tutti. Alla prossima 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 Alla prossima